Buongiorno a tutti voi, sono Don Carlo a Pesteghi, sono capellano delle carceri nella diocese di Montreal e oggi ho la gioia di parlarvi proprio da qui, dal Canada, di questo bellissimo evento, e direi evento storico, della visita delle reliquie di Santa Maria Goretti, proprio qui nella nostra diocese. Dal 20 al 5 giugno faremo un grande giro attraverso il Canada, nei principali luoghi di pellegrinaggio, i santuari come quello di Sant'Anna, di Beaupré, Notre-Dame du Cap de la Madeleine, santuario mariano molto visitato durante tutto l'anno, specialmente nel mese di maggio, e poi faremo il giro anche delle chiese dedicate a Santa Maria Goretti. È un evento che è cominciato molto bene, ieri pomeriggio abbiamo iniziato la prima tappa di questo pellegrinaggio nel cimitero di Laval per inaugurare una chiesa, una cappella del cimitero dedicata proprio a Santa Maria Goretti. Hanno scolpito una bellissima statua in marmo di Carrara, che è stata benedetta da padre Fiorenzo Bordo, provinciale dei padri passionisti, siamo molto grati di questa visita di padre Bordo, che accompagna proprio le sante reliquie di Santa Maria Goretti. E voglio anche ringraziare i padri passionisti, il rettore del santuario di Nettuno, padre Giovanni Alberti e tutta la congregazione dei padri passionisti, di averci dato questa bellissima possibilità, questo grande privilegio, dato che siamo il primo paese, il Canada, ad essere visitati. Quindi man mano che procederemo nel nostro itinerario, vi informeremo di quanto viviamo, di questa bellissima esperienza spirituale e del messaggio che Maria Goretti, messaggio di amore, di fede, messaggio di perdono, che sta trasmettendo attraverso il segno della sua presenza, della presenza delle sue reliquie fra noi. Grazie a tutti.